Intro Bella a tutti ragazzi qui a TolaFra che vi parla E quest'oggi sono qui con un video in cui non gioco ma vorrei soltanto precisare un argomento Abbastanza importante sia per il mio canale che per l'intero youtube Allora l'argomento di cui vorrei parlare oggi è dei like, dei commenti e delle condivisioni Allora in pratica vi spiego, se non lo sapete già comunque youtube si vuole avvicinare sempre più ai social L'hanno detto in tantissimi, io scusate se lo ripeto ma per quelli che non lo sanno magari può servire Si vuole avvicinare sempre di più ai social per cui diciamo che ha inserito questa nuova modalità Secondo la quale diciamo un certo canale viene avvisato delle proprie iscrizioni a seconda del coinvolgimento che ha riguardo questo canale Adesso ho detto un po' dei paroloni però vi spiego una roba semplicissima Allora in pratica se io metto un mi piace a un video di capo bastone, questo qui è un esempio Nei giorni a seguire nella mia bacheca di youtube, appena cliccherò sul link di youtube Quindi appena andrò su youtube, mi si presenterà, se non per prima, comunque tra le prime scelte Le novità, i nuovi caricamenti, le nuove diciamo le novità appunto, le novità recenti di capo bastone Questa cosa avviene anche se mettiamo un like appunto, un commento oppure condividiamo il video se non sbaglio Beh comunque condividere non fa mai male Se invece siamo iscritti ad un canale e magari guardiamo anche i video, li guardiamo molto spesso Però non mettiamo un mi piace, non mettiamo un commento, diciamo che lo guardiamo e basta Ci verranno sì presentate le attività nella bacheca ma oltre ad essere in fondo quindi dopo quelle che abbiamo Alle quali abbiamo messo il like Spesso e magari non ci presenteranno affatto per cui non saremo informati delle sue novità E dovremo vederlo nella barra laterale a fianco allo schermo Comunque cosa, diciamo dopo questa piccola parentesi di cosa volevo parlarvi Volevo parlarvi appunto del fatto, volevo chiederti, chiedervi scusate se anche voi potevate magari coinvolgermi di più Cioè magari lo so che magari mi seguite perché i miei video hanno anche abbastanza visualizzazione Alcuni interessanti, alcuni meno, hanno meno visualizzazione appunto ma quello lì sta a voi Dato che tratto di video molto diversi e di giochi molto diversi Magari uno è interessato al software, sei iscritto per il software Uno è interessato per Minecraft, sei iscritto per i video di Minecraft Comunque è giusto così Però ormai siamo un'ottantina per cui siamo una piccola comunità di 80 persone iscritte al mio canale E per questo vi ringrazio tantissimo E non so come farei senza di voi perché A parte il fatto che le iscrizioni nel mio canale stanno aumentando drasticamente Non so, c'è stato un giorno che ho avuto un bel po' di iscritti Per cui sono saltato sulla sedia appena ho visto le statistiche Comunque non è di questo che voglio parlarvi Anche se vi ringrazio, lo ripeto È del fatto che vi chiedo se gentilmente magari a questo video E io carico anche tre video a settimana di solito Per cui almeno a un video Se possiate mettere un mi piace Quindi cliccare il bel mi piace Che tanto non vi costa nulla Non vi occupa memoria Non dovete pagare soldi È soltanto cliccare un mi piace Oppure un commento Ragazzi potete scrivere anche una stupidata O bel video Oppure potevi non farlo O qualsiasi cosa Ma anche qualcosa di stupido Tipo scrivete a caso Guardate ragazzi La scelta sta a voi In questo modo magari Anch'io apparirò nella vostra bacheca E sarete informati delle mie attività recenti Questo ve lo dico perché Dal momento che carico anche tre video a settimana E questo è un bel impegno Però io mi diverto E mi piace tantissimo E dal mio impegno si vede anche Il fatto che io faccia ad esempio tutte le volte le copertine Che è una cosa banale Però è già qualcosa di più Molti youtuber Che hanno tantissimi iscritti Spesso le copertine dei video le tralasciano E per non perdere tempo Magari non le fanno Per cui il mio impegno È a fare anche tre video Se voi vi siete iscritti Vuol dire che il mio Il mio canale E quindi i miei video vi interessano Ipotizzo Non credo che vi siate iscritti così per sbaglio Per cui Niente Vi chiedo soltanto Se potete Gentilmente mettere un mi piace A questo video anche Così rimanerete informati Ma Voi ho detto Che basta anche un commento Un semplice commento Il video è terminato Spero che Spero che mettiate un like Adesso avete tutto il tempo che volete Per mettere un bel mi piace a questo video Per andare a vederli Nel mio canale Per iscrivervi Se magari i video vi interessano Magari proponetemi anche Sotto questo video Qualche Qualcosa a cui vorreste che io giocassi Magari qualche gioco horror Oppure Qualcos'altro Qualsiasi cosa Qualche altro gioco Così che Possiate davvero Mettere un mi piace Per qualcosa che Davvero vi piace E non siate costretti Perché Spero che Ve lo ripeto Se vi siete iscritti Ci sarà un motivo E credo proprio Che i video vi piacciono E quindi seguiteli Dato la fra è tutto E ci vediamo nei prossimi video Ciao Ciao